E che è questo? Il passaggio è tra due piccoli. Tra due? Piccoli. Non mi ricordo la storia. Aspettate, da lì vai un altro icono su un'altra strada. Sì. No, voglio farlo. C'è il passato. Sì, ci passi. Non ci passi, non lo so. E poi c'è che passo là. No, vabbè, sì, sì, fatti. Collaudiamo subito il casco, se legge la trambata. Guardate che spettacolo. Due piccoli comunicanti. E questa che piazza è? Da qui sembrava essere tornato ai tempi del Ugantino, praticamente. Sembra essere tornato un tuffo proprio nel passato. Ah, questo è, vedi, Teatro dei Satiri, che è pure abbastanza famosa. Fa parte di quei teatri piccoli, ma molto famosi, di Roma. Ma poi, eh. Se si vede... Teatro dei Satiri. Quello in fondo, sì. Ah, non mi ricordo, sì, però, che l'avevo letto. Ovviamente da una parte c'erano i mulini, e dall'altra c'era il campo dei ceroni. Ah, per questo. Allora, questo passaggio, là, è aperto. Per avere accesso al mulino, senza... Senza fare il giro, sostanzialmente. Pensate che vita che c'era, una vita ancora un po' rurale dentro una città. Questa è la via dei Chiavari. E qui non fate battute, per favore. Cassano, questa è via dei Chiavari, mi raccomando, eh. Via. Regola delle conseguenze. Guarda che auguri, eh. Aspettate. Guarda quel palazzo. Ah, Angelo. Guarda questo palazzo d'epoca. C'era una cosa straordinaria. Pensa avere una casa in quel balconcino. Guarda che abbiamo fatto il giro del palazzo. Eh? Abbiamo fatto il giro del palazzo. Sì, sì, il giro del biscotto, come si dice a Roma. Qui ho ogni angolo, un angolo di paradiso intriso di cultura. Qui a Roma. Gli il grow зак Colè. Guarda. Guarda qui. Magaro.